Buongiorno a tutti, oggi vi racconto la storia della resistenza cavriaghese e del periodo della guerra di liberazione tra l'8 settembre 1943, la data dell'armistizio di Cassibile, e il 25 aprile 1945, cioè con la liberazione di tutto il nord Italia da parte delle truppe anglo-americane e partigiane. Per farvi questo racconto io mi sono basato sulla cronologia che è già presente in questo volume, Cabriago antifascista, cronache 1922-1946, scritto da Rolando Cavandoli e pubblicato nel 1975. Rolando Cavandoli è stato uno dei più importanti storici del fascismo e della resistenza in provincia di Reggio, si è occupato non soltanto del centro città, insomma, ma anche di tutti i principali comuni della provincia, scrivendo oltre a questa opera, Cabriago antifascista, che è quella che utilizzerò principalmente, anche altre pubblicazioni come Quattro Castellaribelle, Ciano per la libertà, una storia della resistenza di Novellara, Scandiano 1915-1946, insomma, si è davvero occupato a tutto tondo della provincia di Reggio. Iniziamo il nostro racconto con l'8 settembre del 1943. E' appena stato firmato l'armistizio, l'Italia è nel caos più totale, perché di fatto l'armistizio firmato e reso noto con le modalità con cui lo fecero entrare in vigore i vertici militari italiani, di fatto causò un grandissimo sbandamento dell'esercito italiano. Gli italiani, che fino a un'ora prima o dieci minuti prima della comunicazione radio dell'armistizio erano alleati dei tedeschi con cui condividevano le caserme, da un momento all'altro, senza alcun preavviso, si trovano ad essere, ad avere di fatto i nemici già all'interno delle proprie strutture. L'Italia cambia fronte durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio in seguito all'armistizio di Cassibile, con cui cessa di fatto qualsiasi ostilità nei confronti degli anglo-americani e poi addirittura diventa cobelligerante con loro per la liberazione del Nord Italia dall'occupazione nazifascista. Quindi il termine di guerra di liberazione, che viene utilizzato per descrivere questo periodo, 43-45, fa proprio riferimento al fatto che l'Italia viene liberata da sud verso nord man mano che avanzano le truppe alleate e man mano che i partigiani offrono supporto a questa avanzata degli anglo-americani. Questa terminologia quindi chiaramente è il frutto, insomma, di una, come dire, è frutto diretto del rovesciamento di posizione che subisce l'Italia dopo l'8 settembre, in quanto se prima dell'8 settembre l'Italia avesse dovuto, diciamo, idealmente fare una propria guerra di liberazione, questa guerra sarebbe stata da nord verso sud, cioè per la riconquista, diciamo, della Sicilia che era già stata liberata dagli alleati agli inizi di luglio del 1943. Dicevamo, l'8 settembre getta l'Italia, insomma, nel caos più totale, i tedeschi si fanno trovare subito pronti, infatti nei 45 giorni precedenti all'armistizio, i giorni del governo Badoglio dopo la caduta di Mussolini nel 25 luglio 1943, i tedeschi di fatto avevano fiutato che l'Italia stava per sottrarsi dagli impegni bellici e quindi avevano già pianificato la cosiddetta operazione Axe, che doveva servire a riconquistare l'Italia e a occuparla militarmente in forze nel momento in cui fosse avvenuto un rovesciamento di fronte dal punto di vista italiano. E nel momento quindi in cui l'esercito venne lasciato allo sbaraglio e i vertici militari scapparono e si rifugiarono nel sud Italia già liberato e venne data la notizia dell'armistizio, i tedeschi con un unico colpo di mano di fatto si presero tutto, una fetta consistente del nostro paese. Il 9 di settembre, cioè il giorno immediatamente successivo, c'è già la prima riunione comunista in provincia di Reggio per la fondazione dei cosiddetti gruppi sportivi, che era il nome in codice dei primissimi gruppi partigiani comunisti attivi in provincia di Reggio e che costituiranno poi l'embrione, potremmo dire, delle brigate garibaldi. La riunione si svolge al Boschetto delle Scampate di Quattrocastella, che è, per darvi un riferimento, tra Montecavolo e Rivalta, grosso modo, come zona. E a questa riunione partecipano dirigenti comunisti di tutta la provincia di Reggio, tra cui anche Onderboni di Cavriago, e Angelo Zanti, che avrà, diciamo, sarà il principale organizzatore delle formazioni partigiane comuniste della nostra zona. Su Angelo Zanti non mi soffermo più di tanto, nel senso che so che ci sarà già un approfondimento a lui dedicato, quindi non entro nel merito di questo nostro illustre concittadino, che comunque è stato decorato con la medaglia d'argento al valore militare, per il suo impegno nella resistenza e per, insomma, il martirio con cui ha coronato la sua esperienza di partigiano. Zanti ha fatto veramente una vita intera all'insegna dell'antifascismo ed è morto a causa di queste sue idee, quindi, insomma, nostro concittadino illustre, ma anche, insomma, una persona che... Aspetta, quando si parla di Zanti, ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è che molte volte la retorica vuole che si dica, ah, ma in Italia sotto il fascismo non c'era nemmeno un antifascista, ecco, leggetevi la storia di Angelo Zanti e poi dopo mi direte se in Italia non c'era neanche un antifascista. Dopo il 9 settembre, insomma, dicevo, i comunisti si organizzano e iniziano a fondare i loro gruppi sportivi e anche i democristiani, i futuri democristiani in realtà, perché la DC non è ancora nata, i futuri democristiani non stanno con le mani in mano. Proprio Cavriago, a casa del professore Giuseppe Dossetti, non aveva ancora preso, infatti, i voti da parroco, a casa del professor Giuseppe Dossetti si tiene la prima riunione dei cattolici della provincia di Reggio Emilia, proprio per discutere della nuova situazione politica verificatasi dopo l'armistizio inatteso. E, a distanza di pochi giorni, sempre la casa di Dossetti, che, per darvi l'idea, si trova dove oggi c'è la ferramenta dietro la chiesa di San Terenziano, la casa di Dossetti diventa anche la sede del Comitato di Liberazione Nazionale di Cavriago e lì iniziano a tenersi riunioni clandestine non più solo tra i cattolici, ma anche insieme a comunisti, socialisti e membri del partito d'azione. Quindi, insomma, con rappresentanti di tutto l'arco costituzionale, potremmo dire, insomma, di tutti i partiti presenti all'interno del CLN. L'organizzazione però della resistenza inizialmente è molto... insomma, le cose procedono a rilento, di fatto, l'armistizio è arrivato pulminio e inatteso, i tedeschi sono organizzatissimi, conquistano la provincia in 224, Mussolini viene insomma, liberato e riesce a mettersi alla testa della Repubblica Sociale Italiana e dal loro lato invece i partigiani hanno le difficoltà anche, insomma, nelle cose basilari della loro resistenza. Il problema costante della resistenza è procurare armi e munizioni e procurare viveri per le persone che si decidono a combattere il fascismo. Un altro problema costante è quello di dove nascondere, insomma, i combattenti fisicamente, che molto spesso sono anche renitenti alla leva o comunque ricercati dalla polizia fascista. Quindi, sempre in questo periodo, a Iago iniziano ad organizzarsi le prime case di latitanza e, per darvi un'idea, io prima ho citato la casa di Dossetti, ma anche sulle case di latitanza, al multiplo potete trovare questa mappa che è stata fatta nel 2015, in occasione del settantesimo anniversario della resistenza, che si chiama Quando i luoghi raccontano le storie. In paese potrete notare che ci sono in giro, in luoghi significativi per la resistenza, dei cartelli marroni numerati con una foto e un breve trafiletto immediatamente sotto, in cui si racconta la storia di quel luogo e del ruolo che ha avuto all'interno della resistenza carriaghese. Questa mappa, alla quale anch'io ho collaborato al momento della stesura, praticamente vi mette quali sono tutti questi luoghi a Cabriago e vi suggerisce anche alcuni percorsi, se li volete andare a vedere tutti quanti. E sulla mappa trovate anche la traccia di alcune delle case di latitanza che c'erano in paese. Molto probabilmente non siamo riusciti a mapparle tutte, però abbiamo cercato, insomma, di... abbiamo mappato solo quelle su cui avevamo anche delle precise fonti bibliografiche sul fatto che effettivamente fossero stati ospitati dei partigiani. Quindi, se qualche altra casa di latitanza manca, insomma, dispiace, ma abbiamo cercato di fare il possibile per ricostruire il tutto nella maniera più fedele, insomma, a quanto fosse nel 45. Dicevo, in questo periodo iniziano a organizzarsi le case di latitanza, iniziano a organizzarsi le prime milizie. Il primo fatto di sangue vero e proprio avviene nel dicembre 1945. Il 15 dicembre nella zona di Via Prativecchi, un gruppo di gapisti, probabilmente, ma non si sa di preciso chi fu a fare questo atto, attaccarono e uccisero Giovanni Fagiani, primo senior della milizia fascista e comandante della 79esima legione della Guardia Nazionale Repubblicana. Questo è uno dei primi fatti di sangue dell'intera provincia, non solo di Cabriago, e di fatto coglie i fascisti impreparati come modalità di azione, perché i fascisti tentennano prima di prendere effettivamente dei provvedimenti contro Cabriago, salvo che a Cabriago, insomma, dopo il successo di questa prima operazione partigiana, ne avviene un'altra. Il 19 dicembre, quattro giorni dopo, si tenta di colpire Romeo Pioli, segretario del PFR di Cabriago, ma l'attentato fallisce e i proiettili non riescono a raggiungerlo. Due attentati in quattro giorni sono decisamente troppi e l'allora prefetto, o come veniva chiamato capo della provincia Enzo Savornian, dirà una circolare il 20 dicembre, nel quale comunica che l'intera popolazione di Cabriago verrà multata della somma di 50.000 lire, che è una somma elevatissima per l'epoca, viene imposto il coprifuoco dalle 19 fino alle 6 del mattino e vengono chiusi tutti gli esercizi pubblici. Vengono inoltre eseguiti alcuni arresti, ma di fatto non ci sono prove a sufficienza per incriminare le persone che vengono fermate e quindi di fatto l'omicidio del signor Fagiani rimane impunito. I fascisti, dicevo, multano l'intero paese di 50.000 lire, la somma doveva essere divisa tra le varie famiglie, tutti dovevano contribuire, insomma, per espiare la colpa di aver ucciso il militer senior Fagiani. Tuttavia, insomma, si tenta la via della delazione, insomma. Quindi Savornian fa sapere che c'è tempo fino al 22 di gennaio del 44, prima che i fascisti chiedano effettivamente la riscossione della somma e quindi se qualcuno ha informazioni su chi è stato effettivamente ad uccidere il signor Fagiani e a tentare di fare l'attentato a Romeo Pioli, può andare a fare denuncia e allora il paese sarà sollevato dalla somma pecuniaria da dover pagare. Passa il mese, ma di fatto non avviene nessuna delazione e quindi Cavriago il 22 gennaio deve iniziare a pagare i fascisti che passano casa per casa con la riscossione, insomma, della loro imposta. Sempre nel gennaio 44 c'è il primo grande bombardamento sul Reggio Emilia, il bombardamento delle Reggiane, ci sono 260 morti, in questa occasione viene distrutta praticamente la fabbrica, che era la quarta fabbrica più grande d'Italia, e il bombardamento sulle Reggiane, oltre ad essere un fatto, insomma, terribile per la popolazione che si trova costretta a subire le bombe alleate, è anche il momento in cui si incrina in qualche modo la propaganda fascista, perché di fatto vedere che una delle più importanti fabbriche italiane per l'andamento della guerra, insomma, perché le Reggiane all'epoca producevano munizioni, aerei, insomma, materiale bellico, vedere che la quarta fabbrica più importante del paese viene bombardata di fatto senza che nessuno si prenda la briga di difenderla, vuol dire che l'Italia in guerra non sta andando bene come la propaganda fascista vuole far credere. E quindi questo è di nuovo uno smacco di fatto fortissimo per i repubblichini. Sempre nel marzo 1944 l'organizzazione della resistenza, insomma, viene organizzata su un livello ancora superiore, cioè si attivano i cosiddetti gruppi di difesa della donna. Era un'organizzazione femminile, filo comunista, che veniva gestita dal PCI come supporto alle attività della resistenza. Cioè, mentre gli uomini tendenzialmente erano a combattere in montagna, alle donne che rimanevano nelle città e nei paesi per, insomma, continuare a lavorare, insomma così, veniva richiesto di procurare cibo, medicinali, vestiti, insomma, beni di prima necessità da mandare in montagna ai partigiani. Questo materiale veniva solitamente procurato attraverso la sottrazione in debita, cioè alle donne che lavoravano nel settore alimentare, si chiedeva di sottrarre qualche, insomma, qualche derrata e così via, no? E a Cabriago questa organizzazione venne gestita da Neil Dejotti, la futura presidente della Camera, e quindi, insomma, per lei quella fu la prima vera attività politica antifascista della sua vita. Il 20 giugno del 44 muore a Codemondo Romeo Pioli, i partigiani gli tendono un secondo agguato e questa volta non falliscono, e in generale con la morte di Romeo Pioli, che avviene a Codemondo, si pone un problema per i fascisti, cioè il problema della sicurezza delle vie di comunicazione tra Cabriago e Reggio Emilia. Se la via Emilia era di gran lunga la via più sicura dal punto di vista delle comunicazioni, in quanto era spesso pattugliata ed era un pochino sopraelevata in certi punti rispetto ai campi adiacenti, per cui era comunque possibile controllare la zona e non era così facile essere sorpresi da un'imboscata. Lo stesso non valeva per l'attuale Via Teggi, che era la via di comunicazione principale tra Reggio, Codemondo e Cabriago. Nell'attuale Via Teggi, all'epoca, c'era una fitta boscaglia, entrambi i lati, insomma, della strada, e la maggiore presenza di fossi e di, insomma, potenziali nascondigli, di fatto la rendeva ideale per le ingoscate. Praticamente, io adesso non posso citarli tutti perché veramente non finiremo mai più, però tantissimi, tantissimi agguati si concentreranno su questa zona, agguati partigiani a militi fascisti. E addirittura una delle principali azioni di sabotaggio fatta dai partigiani sarà proprio quella di minare il ponte sul Quaresimo, in modo da costringere le truppe nazifasciste a non utilizzare la Via Emilia per arrivare da Reggio la Valdenza, ma costringerle a passare proprio da Via Teggi. E questo, lo vedremo in futuro, avrà un'importanza cruciale nella storia della Resistenza Cabriago, perché, proprio a causa di uno dei sabotaggi sul ponte del Quaresimo, ci sarà una rappresaglia nella quale moriranno cinque persone. Però siamo ancora al 44. Nell'ottobre 44 viene installata a Cianodenza la scuola antiribelli, che è la principale organizzazione dei nazisti in Italia per tentare di arginare il movimento partigiano. Nella scuola antiribelli vengono istruiti delatori, vengono istruite truppe speciali per le azioni di guerriglia, quindi combattere i partigiani con le loro stesse modalità, e di fatto nei sette mesi di attività che avrà la scuola antiribelli porterà all'uccisione di oltre 120 partigiani, quindi sarà veramente una grossa spina nel fianco per la resistenza non solo cabriaghese, insomma, ma di tutta la provincia di Reggio. Il 20 dicembre successivo, insomma, il 20 dicembre 44, in uno scontro a fuoco a Cerredolo dei Coppi viene, utilizzo il termine che utilizza anche Livio, viene neutralizzato, il capitano Volkmar Seifert, che era il responsabile della scuola antiribelli di Ciano, e insieme a quest'azione viene recuperata una lista di delatori infiltrati all'interno del movimento partigiano. Quindi per cui per questa azione il nostro concittadino Livio Piccinini otterrà la medaglia di bronzo al valore militare, e Livio Piccinini è stato anche insignito del riconoscimento di cittadino onorario cabriaghese. Se vi interessa di più approfondire la sua figura, qua, ad esempio, vi mostro il libro che contiene le sue memorie. Livio Piccinini de Linger, una scelta per la libertà, cura di Franco Piccinini, il nipote, e all'interno, insomma, di questo libro potete trovare questo episodio e tanti altri, insomma, che riguardarono la scelta di Livio di entrare nelle forze partigiane. Fin qua vi ho raccontato, insomma, di un movimento partigiano che fa fatica a partire, ma che poi riesce ad organizzarsi. Il primo grande stop che arriva alla resistenza arriva il 13 novembre 1944 con il proclama del generale Alexander, generale Alexander che era il capo di tutte le operazioni militari alleate sulla penisola italiana. Il proclama di Alexander chiede ai partigiani essenzialmente di cessare tutte le proprie operazioni, di conservare le munizioni di materiali, tenersi pronti ai nuovi ordini e quindi di fatto smobilitare per tutto l'inverno del 44 fino alla primavera del 45. Di fatto perché avviene questo? Perché il comando alleato ritiene che le condizioni meteorologiche dell'inverno 44 siano troppo avverse per poter permettere alle loro truppe di proseguire la loro marcia verso nord e liberare l'Italia entro l'anno. Quindi viene deciso, per una questione di sicurezza, di rimandare qualsiasi operazione militare alleata di risalita sulla penisola alla stagione migliore. Quindi verranno di fatto rimandate all'inizio della primavera del 1945. Questo proclama per i partigiani è uno smacco fortissimo, non soltanto per i comunisti ma anche proprio per tutto il movimento partigiano, perché da un lato questo viene visto come l'invito a non liberarsi da soli. Dal punto di vista morale la resistenza aveva messo i protagonisti nella posizione di tentare personalmente il proprio riscatto e il riscatto della propria nazione. Invece sottostare all'ordine di Alexander moralmente significa dire che di fatto non sono i partigiani una forza determinante per la liberazione italiana. Poi c'è anche un altro problema di natura molto più pratica, cioè che la gran parte degli aderenti alla resistenza in questo momento non può fisicamente tornare a casa, perché il rischio di essere catturata è grandissimo, insomma. Del resto la gran parte dei membri della resistenza, insomma, erano già segnalati comunque alla polizia fascista, erano renitenti alla leva, erano, insomma, considerati alla pari di criminali e quindi chiaramente l'opzione di tornare a casa e conservare le munizioni era di fatto anche molto più rischiosa di quanto non lasciasse intendere il proclama di Alexander. Soprattutto questo proclama ebbe un grosso problema, rappresentò un grosso problema per la resistenza nel momento in cui si certificava di fatto che gli alleati avrebbero smesso qualsiasi operazione militare di risalita lungo la penisola italiana per l'inverno. Di fatto questo diede ai nazifascisti l'opportunità di sganciare alcune truppe dal presidio della linea gotica, che era la linea, insomma, del confine tra le zone liberate e le zone non liberate, per poter utilizzare maggiori risorse nella lotta proprio contro i partigiani. Quindi nel novembre del 44 per il movimento partigiano insomma inizia davvero un periodo difficilissimo. Lo stesso Angelo Zanti il 28 novembre verrà arrestato a Puglianello e sarà poi fucilato il 13 gennaio del 1945. Contemporaneamente però a Cabriago, in questo periodo, nel novembre del 44, e mi baso sulla periodizzazione che fa Rolando Cavandoli, Cabriago antifascista, nel novembre del 44 le azioni partigiane si intensificano tantissimo. Si tratta di piccole azioni, come dire, mirate, proprio fatte con la pura strategia del logoramento, del mettere la spina nel fianco al proprio avversario, i partigiani di fatto iniziano una lunga serie di perquisizioni nelle case fasciste e nel anche tentare di disarmare i militi della milizia fascista. Ad esempio, per darvi un'idea, il 6 novembre del 44 i sapisti della terza zona, i gapisti della 37esima brigata, asportano 18.000 colpi per mitra da un magazzino fascista di Villacella. Il 7 novembre 44, cioè il giorno dopo, i sapisti a Cabriago affiggono dei manifesti antifascisti e dedicati all'anniversario della rivoluzione d'ottobre. L'8 novembre, nella sera 15 sapisti perquisiscono la casa di un fascista recuperando un moschetto e una rivoltella con sei colpi. Il 9 novembre, un gruppo sapista al comando di Libero costringe un altro elemento filofascista a consegnare un moschetto con tre caricatori. Insomma, e così via. E praticamente, quotidianamente, dai primi di novembre fino alla metà del dicembre del 1944, ci sono azioni di questo genere. Una guerra di logoramento, potremmo dire a bassa intensità, nel senso che in questo momento non ci sono grandi fatti di sangue a Cabriago nella lotta partigiana. Tuttavia, continue azioni di logoramento, di sfinimento, di, insomma, una perquisizione, una perlustrazione, un'imboscata ad alcuni militi della Guardia Nazionale che vengono disarmati, e così via, insomma. Queste azioni si susseguono e a dicembre si arriva, insomma, a quella che è probabilmente la più famosa azione partigiana sul territorio di Cabriago, che è anche quella che è rimasta di più nelle tracce della memorialistica, insomma, cioè la distribuzione di parmigiano reggiano. Cosa avviene di preciso? Siamo nel dicembre del 1944, l'inverno è rigidissimo, la popolazione di Cabriago, il 12 dicembre, fa una protesta per chiedere che vengano aumentati i generi alimentari che vengono distribuiti con la tessera nonaria. Come funziona la tessera nonaria? Essenzialmente ogni famiglia aveva diritto a una quota razionata di cibo, e queste quote però erano veramente molto molto scarse, quindi di fatto praticamente tutte le famiglie chi poteva, si era fatto un piccolo deposito segreto da qualche parte per tenere nascosti dei viveri da utilizzare, insomma, a causa di quella che, come si chiama in dialetto, insomma, è la filuma, no? La povertà più assoluta e addirittura la fame, no? Si faceva la fame, Cabriago. E quindi il 12 dicembre c'è questa protesta per chiedere che vengano aumentati le razioni, e il 16, cioè quattro giorni dopo, in seguito l'operazione viene pianificata, insomma, con il taglio della corrente elettrica e con il taglio dei fili del telefono in tutta la zona tra Cabriago, Barco, Montecchio, e un nutrito gruppo di partigiani assalta il magazzino Locatelli di Barco e vengono rubate oltre 2500 forme di parmigiano reggiano. Queste 2500 forme vengono in parte mandate verso la montagna e in parte spaccate e divise in proporzioni più o meno eque tra la popolazione dei paesi di Bibiano, Montecchio, Barco e Cabriago. Quest'azione, insomma, che è, insomma, diventata... la trovate nella memorialistica praticamente ovunque, no? Insomma, è stata veramente un'azione clamorosa. Per essere fatta, insomma, i partigiani si servirono di sei camion e oltre otto carri trainati dai cavalli, cioè quindi, insomma, una mobilitazione di mezzi non indifferente e con il rischio molto concreto di essere scoperti. quindi, di fatto, questa azione, che è stata un successo, è andata bene solo perché non c'è stata una rappresaglia subito dopo, in quanto se ci fosse... se i nazisti avessero deciso di fare una rappresaglia dopo un'azione così clamorosa, insomma, probabilmente la popolazione di Cabriago ricorderebbe qualche... qualche decina di morti in più, insomma, dopo... dopo un fatto del genere. Siamo al dicembre del 44. Nel gennaio del... del 45 l'attività partigiana, che si era un po' smorzata dopo la clamorosa, insomma, azione di... del caseificio Locatelli di Barco, l'attività partigiana inizia di nuovo a intensificarsi tra il 10 e il 18 di gennaio. Torno nella mia cronologia, insomma, iniziano... praticamente ci sono... iniziano gli attacchi nei confronti dei caposquadra fascisti, quindi si dice, ad esempio, 10 gennaio, due gruppi del primo settore al comando del caposquadra Arturo effettano una perquisizione in una casa del Ghiardo e vi sequestrano due fucili da caccia, tre caricatori per moschetto e 43 colpi di pistola e nella stessa serata un gruppo di perlustratori sulla linea ferroviaria recupera sei latte di tritolo per complessivi 35 kg e una bomba a mano. Il 12 gennaio una squadra del primo settore requisisce due automezzi, quindi un'azione molto considerevole. Io adesso non l'ho citata, ma una delle azioni più significative a Capriago era stato il furto da parte dei partigiani di una ventina di biciclette ai danni dei fascisti. E l'azione oggi fa sorridere, però dobbiamo pensarla in un momento in cui un'auto è una rarità e la benzina è un bene di prima necessità estremamente raro da procurarsi, difficile da procurarsi insomma. E quindi anche l'azione di sottrarre 20 biciclette agli avversari era un'azione decisamente ardita, qua si arriva addirittura a requisire degli automezzi. Altri sapisti tagliano i fili telefonici, siamo sempre 12 gennaio, tagliano i fili telefonici colleganti di Capriago con Reggio Emilia. Un gruppo di gapisti sorveglia la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Capriago e contemporaneamente i sapisti del primo settore con i rinforzi da barco, suddivisi in vari gruppi, portano a compimento le seguenti azioni. Requisizione di viveri a un mercato nerista nei dintorni di Capriago. Requisizione in altra casa nei dintorni di ampie scorte di medicinali. Requisizione in un allevamento di codemondo controllato dalle autorità della RSI di 45 suini. Nelle diverse azioni che vengono compiute senza incidenti fra le 17 e 30 e le 3 del mattino del giorno seguente partecipano 22 sapisti eccetera eccetera insomma. Cioè vengono compiute veramente delle azioni di relativamente vasta scala insomma sul nostro territorio con tanti 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 sequestri tutti fatti uno in fila all'altro insomma e quindi proprio per rispondere insomma a questo intensificarsi delle attività partigiane a Capriago il 22 gennaio avviene il più grande rastrellamento mai avvenuto nel nostro paese. Di fatto 500 tra fascisti e nazisti circondano il paese di Capriago e bloccano tutte le vie di ingresso e di uscita al paese. Gruppetti di soldati e di militi della Guardia Nazionale Repubblicana casa per casa controllano i documenti a tutte le persone che trovano e perquisiscono i loro oggetti personali alla ricerca di materiale comunista, armi non dichiarate e altre cose e di fatto tutti i sospetti vengono assemblati presso il Cinema Italia. Di fatto dopo il controllo vengono arrestate oltre 41 persone, di queste 41 praticamente la metà viene rilasciata alla fine della giornata mentre altri 19 vengono trasferiti al carcere dei servi di Reggio Emilia. Siamo al 22 gennaio, vi dicevo ci sono 19 cabriagesi e i servi a Reggio Emilia e quando il 27 alcuni partigiani depongono le mine sotto il ponte del Quaresimo e le fanno saltare mentre transita sopra di esso una vettura tedesca di fatto danno l'occasione ai nazisti di effettuare una rappresaglia. Siccome muoiono un ufficiale e un soldato e viene distrutto l'automezzo i nazisti decidono di prelevare da Reggio dieci ostaggi e di portarli sul ponte del Quaresimo per fucilarli. Tra questi dieci fucilati cinque sono cabriagesi e sono Socrate Paterlini, Nello Sarti, Giuseppe Violi, Dello Giovanni Govi ed Ernesto Rigattieri. Insomma quindi cinque due nostri concittadini di cui peraltro solo tre effettivamente aderenti al movimento partigiano che erano Socrate Paterlini, Nello Sarti e Giuseppe Violi mentre Dello Giovanni Govi ed Ernesto Rigattieri erano due industriali del paese. Ernesto Rigattieri lavorava nel settore del latte mentre Dello Giovanni Govi nel settore tessile. E quindi di fatto insomma i fascisti colpiscono non soltanto i partigiani in questa occasione e la rappresaglia la si ha anche nei confronti di persone insomma di civili insomma inermi. Dopo questo fatto del 28 gennaio nel mese di febbraio di fatto il movimento partigiano cabriaghese subisce altri ingenti perdite. Vengono infatti arrestate due staffette partigiane molto importanti che sono la Bruna Davoli, Chira, nome di battaglia Chira, e la Tina Clarice Boniburini, nome di battaglia Nikla, le quali sono entrambe decorate con la medaglia d'argento al valore militare per la tenacia con cui hanno resistito alle torture subite. Soprattutto delle due il caso più, come dire, più brutale è stato quello della Tina Boniburini che è stata portata a Villa Cucchi e ci è di fatto rimasta fino alla liberazione avvenuta, quindi è rimasta alcuni mesi a Villa Cucchi e ha subito delle torture e delle sevizie che sono veramente raccapriccianti. E se avete la curiosità di sapere cosa facevano i fascisti a Villa Cucchi, ai partigiani, per estorcere loro le informazioni, la testimonianza di Tina Boniburini fatta durante i processi, insomma, nell'immediato dopoguerra, la potete trovare nel volume di Massimo Storchi, il sangue dei vincitori. E vi garantisco che è roba molto 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 cruda perché si riporta per filo e per segno tutto quello che ha subito questa nostra concittadina e c'è della roba da far accapponare la pelle. Altre testimonianze, adesso io non ricordo se era proprio Tina Boniburini che parlava in quest'altra occasione, ma vabbè, in ogni modo altre testimonianze affini comunque le potete trovare in questo DVD. Avevamo vent'anni disponibile al Multiplo di Cabriago. Praticamente il progetto era stato fatto per il cinquantesimo della Resistenza, quindi nel 95, e qualche anno fa è stato messo in DVD in quanto gli originali erano in VHS e quindi è di nuovo fruibile per la cittadinanza cabriaghese che volesse informarsi su queste tematiche. Di fatto il mese di marzo è il mese in cui inizia la guerra vera e propria su Cabriago, cioè Cabriago viene interessata da operazioni militari dirette. Questo perché? Perché di fatto i partigiani si stanno preparando per quella che è vista come l'imminente discesa verso la pianura per l'assalto finale per la liberazione d'Italia. È passato l'inverno in qualche modo, le perdite per il movimento partigiano sono state tante, però è arrivato il momento in cui gli alleati stanno riprendendo le loro operazioni militari e hanno ripreso a risalire lungo la provincia, lungo la penisola italiana. E quindi anche i partigiani si tengono pronti per la grande azione e il 19 marzo viene condotta a Bibiano, Montecchio, Cabriago e Codemondo una operazione simultanea con oltre 230 partigiani coinvolti. Questa operazione doveva servire ad attaccare le caserme della Guardia Nazionale Repubblicana e quindi mettere in difficoltà i fascisti, ma soprattutto doveva servire come, potremmo dire, prova generale per un attacco simultaneo contro tanti comandi fascisti in contemporanea. E di fatto l'operazione non fu un successo per i partigiani, che non ebbero perdite ma non riuscirono neanche di fatto a conquistare nessuna delle caserme della Guardia Nazionale. Tuttavia fu un'importante prova generale per quelle che diventeranno le operazioni che verranno fatte, insomma, in futuro, dai partigiani nella provincia di Reggio Emilia. E infatti pochi giorni dopo una di queste operazioni analoghe invece ha successo, non a Cabriago, si tratta dell'operazione Tombola eseguita ad Albinea, nella quale viene attaccata la quinta sezione del comando generale tedesco, che viene di fatto costretto a trasferirsi. Si trasferirà a Cabriago e questo per la popolazione cabriaghese sarà un grosso problema, in quanto il comando generale tedesco era un obiettivo sensibile dei bombardamenti alleati nella fase conclusiva della guerra. E dunque, il 16 e 19 aprile del 1945, Cabriago viene pesantemente bombardata dalle forze alleate e nel bombardamento muoiono 13 civili e vengono ferite oltre 30 persone. Insomma, viene colpita tutta la zona di Via Spato fino alla stazione ferroviaria, quella alla fine di Via Roma. Se vi interessa approfondire questo tema, io non ci spenderò troppe parole, perché è già stato fatto un video da Franco Piccinini in cui lui ha raccontato alcune anche testimonianze inedite. Quindi lo potete trovare tranquillamente e in questo video, insomma, vi viene raccontata molto più nel dettaglio la storia, se vi interessa approfondire il tema del bombardamento. Sempre, siamo oramai, insomma, alla fine della guerra, 16-19 aprile il bombardamento a Cabriago, il 23 aprile Cabriago diventa il teatro delle operazioni militari della 144esima Brigata Garibaldi, che di fatto entra in paese e acquisisce il controllo di Casa Romei, che era l'allora sede della Guardia Nazionale Repubblicana a Cabriago, e Casa Romei, come trovate anche nella mappa, si trovava tra la ex biblioteca di Piazza Zanti e l'attuale municipio, insomma, in una posizione dove oggi c'è il parcheggio di fronte al municipio di Cabriago, ecco. Il parchetto e il parcheggio. E di fatto questa prima operazione sembra aver avuto successo, Cabriago tecnicamente viene liberato al 23 aprile, salvo che alle 19 i partigiani sono costretti a sganciarsi, perché vengono informati dell'arrivo di ingenti colonne tedesche in ritirata dalla montagna e che stanno transitando per Cabriago. Il rischio di creare uno scontro a fuoco è elevatissimo e quindi di fatto i partigiani preferiscono ritirarsi e lasciare il paese. Le colonne tedesche passano senza troppi intoppi e la mattina dopo, il 24 aprile, di nuovo i partigiani tornano a occupare il centro di Cabriago per liberare il paese. E si viene a sapere in questo momento che le ultime colonne tedesche stanno transitando nel tratto che da San Polo passa a Montecchio, tra San Polo e Montecchio insomma, per arrivare alla Via Emilia. Le colonne tedesche in particolare provenivano sia da Ciano e da Vetto che dalla Statale 63, quindi venivano giù dalla montagna e poi, passando per Coviolo e San Rigo, si stavano portando verso la barcaccia per poi scendere verso la bassa, verso nord, e arrivare alla Via Emilia. La ritirata di tedeschi, insomma, è quindi, sembra cosa fatta, tuttavia un gruppo di sapisti decide di ingaggiare un conflitto a fuoco con una camionetta tedesca. E probabilmente viene con... insomma, non si sa bene la dinamica di questa azione avventata da parte dei partigiani cavriagesi. Probabilmente si temeva che questa camionetta potesse tentare di passare dal centro di Cavriago e fare delle ultime rappresaglie, quindi si è voluto intercettarle prima che entrassero in paese. Ma di fatto lo scontro a fuoco che avviene a Villaiola segna delle grandi perdite per il movimento partigiano cavriaghese. Muoiono infatti tre partigiani immediatamente nei combattimenti, e sono Giulio Mazzali, Alberto Melloni e Gabino Pioli. Un altro partigiano, Armando Caramaschi, viene gravemente ferito e a causa delle ferite morirà il 12 maggio successivo, quindi pochi giorni dopo la liberazione. E altri quattro partigiani, che hanno tentato di sganciarsi da questo attacco mal riuscito, vengono però fatti prigionieri e fucilati sempre a Villaiola. E questi altri quattro sono Giancarlo Bonilauri, di 16 anni, Otello Galli, Fabrizio Tagliavini e Giovanni Terenziani Poletti. Di fatto questi sono i morti di Villaiola. Ecco, quindi vi ho raccontato dei morti sul Quaresimo, e adesso questi sono i morti di Villaiola, che sono le due tappe principali del Giro dei Cippi, che viene fatto ogni anno, il 25 aprile, insomma, per commemorare le vittime del nazifascismo a Cavriago. E quindi il 25 aprile, che oggi noi ricordiamo come festa nazionale per la liberazione dell'Italia dalle truppe d'occupazione nazifasciste, a Cavriago nel 1945 non fu un giorno di festa. L'entusiasmo, infatti, era stato smorzato dalle notizie arrivate da Villaiola di questi ultimi morti, insomma, che la guerra si era portata dietro, di fatto, e i corpi di questi sette partigiani vennero sistemati sotto i portici di Piazza Zanti in attesa di poter fare loro il funerale. E quindi, di fatto, il clima, cioè, per chi veniva, per chi arrivava in piazza Cavriago il 25 aprile del 45, insomma, dalla città, credendo di poter fare festa esattamente come si stava facendo a Reggio, di fatto la sensazione non fu affatto quella di entusiasmo, ma fu quella di lutto e tristezza per la morte di alcuni compagni partigiani. E con questo aneddoto io vi saluto. I libri che ho utilizzato per fare, insomma, questo mio racconto dei principali fatti della resistenza Cavriago sono, lo ricordo, Rolando Cavandoli, Cavriago antifascista, che ho utilizzato per la cronaca ed è, penso, la primissima opera che studia che studia Cavriago sotto questi occhi, insomma, guardando non soltanto il periodo della resistenza, ma anche proprio tutto il ventennio e dando particolare attenzione alle vite dei protagonisti, quindi decisamente un saggio molto molto importante che trovate in multiplo. Un altro saggio che ho utilizzato è quello di William Casotti, Fascismo antifascismo nella realtà di Cavriago. Se questo è stato il primo saggio mai pubblicato, quello di Casotti potremmo dire è quello più completo, in quanto è l'ultimo ad essere stato pubblicato e quindi si è avvalso anche di tante altre ricerche che sono state fatte nel corso degli anni. E ovviamente Terra Rossa, che è la storia di Cavriago del Novecento, su cui anche lì si può trovare una breve cronologia a dei fatti di questi anni e del materiale, della mappa dei luoghi della resistenza, quando i luoghi raccontano le storie 1945-2015. Tutto materiale che potete trovare al multiplo nella sezione di Cavriago e che vi invito quindi a consultare se siete interessati a fare degli ulteriori approfondimenti. Vi saluto e vi auguro buon 25 aprile a tutti!